Buonasera a tutti, ultimo video commento dalla seduta e anche ultimo video della settimana per quanto mi riguarda, poi un po' di riposo fino a lunedì e c'è da constatare che oggi si verifica purtroppo la peggiore delle ipotesi fatte ieri, ovvero che con l'uscita delle trimestrali americane importanti Apple, Amazon e Intel, magari il mercato avrebbe potuto non accogliere favorevolmente le trimestrali, così è stato praticamente per due su tre, pesantissima tra l'altro Intel tra un po' andremo anche a vedere il grafico, pesante anche Amazon, si salva solamente Apple ma questo non è sufficiente a mantenere a galla gli Stati Uniti che sono in ribasso e purtroppo per noi con l'aria che tirava già dai future questa mattina il nostro Fuzzimib è andato a rompere anche i minimi del mese di giugno minimi che poi sono anche rimasti in resistenza per la giornata, ritestati e poi siamo scesi nuovamente, siamo scesi anche sotto quota 32.000 punti in intraday e salvo poi chiudere leggermente sopra. Adesso io direi che andiamo subito a vedere i grafici, vedete che sono già stati bruciati praticamente dei livelli importanti dati solamente ieri e c'è anche qualcosa da constatare proprio a livello di grafici mensili qui stiamo bruciando le tappe per cui c'è proprio un'accelerazione ribassista e io penso anche che questa accelerazione continuerà per la prossima settimana, non penso proprio che sia finita qui, ormai il trend diciamo così al rialzo è definitivamente concluso inizia una fase ribassista, vediamo dove ci porterà ma insomma altri minimi io penso che ci toccheranno almeno la settimana prossima se non anche quella dopo. Detto questo andiamo a vedere i grafici. Si comincia dal nostro indice Fuzzinib questo è il grafico giornaliero e come vedete questo minimo ovvero il minimo di giugno è stato breccato subito in apertura e guarda caso il pullback è stato fatto, il test per cui non è superato, non siamo riusciti a riprendere questo minimo non sarebbe stato importante per oggi riuscirlo a mantenere, si chiude a 32.018 punti, meno 2, 55% si fa un primo affondo a 31.909 punti come minimo per cui siamo scesi sotto quota 32 e praticamente il livello è adesso particolarmente importante perché chiudiamo anche sotto l'importante media mobile a 200 sedute. Nel frattempo ci siamo chiusi il primo gap che avevamo il primo spiffaro che avevamo dietro e ve ne sarebbe un secondo per il quale io penso che nelle prossime sedute vorremmo rimedio per cui una discesa ancora nella fascia tra i 31.300 e i 31.400 me lo aspetto e poi come al solito tra rimbalzi e nuovi affondi insomma avremo magari anche qualche seduta volatile questo non è detto per cui non saranno tutte sedute in discesa ma capite bene che conclusa questa fase si scende insomma le probabilità sono per una discesa. Dopodiché passiamo a tra l'altro vi faccio vedere il grafico mensile e il nostro grafico mensile ci dice che ieri abbiamo rotto i minimi del mese di luglio e per cui era un mese semplicemente oggi siamo sotto i minimi di 1, 2, 3, 4, 5 mesi per cui noi siamo sotto anche i minimi di marzo questo non è assolutamente un buon segnale. Per quanto riguarda il DAX anche lui si appoggia ma non lo vede assolutamente bene sui minimi degli ultimi sei mesi sembra che voglia romperli al ribasso oggi chiude a meno 2, 33% questo è il grafico giornaliero anche lui apertura in cap down per cui il livello dei 18.000 punti che doveva essere mantenuto in realtà è stato breccato subito in apertura e subito siamo andati a cogliere i target che già vi avevo iniziato ieri per cui l'area dei 17.700-600 è stata raggiunta 17.661 il DAX rimane ancora diciamo così sopra la media mobile 200 sedute ma io penso proprio che per la prossima settimana anche lui si dirigerà intorno all'area dei 17.400 e vedremo se potrà essere quantomeno un'area di rimbalzo SP500 in questo momento in calo dell'1.85% anche lui con apertura in gap down il livello dei 5.300 punti che era il mio target ha fatto un minimo a 5.302 si può dire raggiunto per cui era proprio un blef questa candela fatta registrare il 30 luglio e poi di nuovo giù per quanto riguarda il Nasdaq 100 siamo in ribasso dell'1.96% attenzione anche qui c'è un minimo importante da riuscire a mantenere il minimo del 31 di maggio sotto questo va anche lui per un test sui 17.825 800 diciamo anche lui per la media mobile 200 sedute e il Nasdaq che raggiunge il mio target minimal dei 17.000 raggiunge anche il secondo che avevo dato quindi la ricopertura di questo gap e vediamo se riesce quantomeno a fare un minimo qui per oggi per poi magari ricoprire questo gap il lunedì può essere che ci sia anche un rimbalzo questo non è escluso insomma adesso insomma comunque sia si vede che il ritracciamento per gli Stati Uniti c'è per cui non erano semplicemente dei falsi segnali quelle prime candele da sell off che abbiamo commentato insieme diamo un'occhiata veloce anche ai titoli che hanno tirato fuori le trimestrali ieri sera questa è Apple che regisce bene ieri sera era andato un po' in rosso ma adesso segnala un più 2,92% è anche una bella candela che si porta oltre i massimi per cui la reazione di Apple è stata positiva mentre Amazon apre in feroce gap down meno 9,18% anche lui apre e tocca la media mobile che in questo momento respinge il tentativo di recupero e media mobile ha 200 sedute ha toccato anche quota 160 per cui ha fatto un minimo a 160,55 e si è portata quasi alla recopertura del gap che era qui presente, ok? era un livello piuttosto importante adesso dovrebbe riuscire quantomeno a recuperare la media mobile a 200 sedute vediamo se ce la fa e per quanto riguarda Intel è talmente in basso che non si vede nemmeno bene cerco di largare il grafico il più possibile feroce gap down, volumi monster, segna un meno 27,50% a 21 dollari 0,6 e insomma la situazione mi sembra piuttosto grigia per quanto riguarda questo è un grafico settimanale pare diretta quantomeno a un test in area 17 dollari l'ultimo sguardo a Parigi perché udito dite Parigi scende sotto i minimi dell'anno e chiude il ribasso dell'1,61% per cui Parigi è proprio diciamo così capo il listino peggiore che osserviamo diciamo che per oggi è tutto per cui vi ho detto mi attendo nuovi ribassi per la prossima settimana non penso che sia finita qui magari potrebbero esserci un altro 1000 punti circa perché no e poi insomma vedremo dove il mercato troverà un minimo dal quale ripartire grazie per l'attenzione abbonatevi al canale anche ai nostri servizi in particolar modo il canale premium ci sono 6 settimane da fare insieme a noi per tutta l'estate che comunque saremo a monitor nonostante insomma il periodo di riposo grazie e alla prossima grazie